È vero, dentro della Chiesa c'è stato anche dei chierici, in alcune civilizzazioni un po' più forti degli altri. Non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. E io credo che si fanno ancora, perché non è una cosa che dal momento che tu ti accorgi finisce, la cosa va avanti così. Da tempo che stiamo lavorando in questo, abbiamo sospesso qualche chierico, mandato via su questo. E anche, non so se si è finito il processo, ma anche sciogliere qualche congregazione religiosa femminile, che era molto legata a questo, una corruzione. Io non posso dire a casa mia questo, è vero. E si deve fare qualcosa di più? Sì. Abbiamo la volontà? Sì. Ma è un cammino che viene da dietro. Papa Benedetto ha avuto il coraggio di sciogliere una congregazione femminile, che aveva un certo livello, perché c'era entrata questa schiavitù delle donne. Schiavitù, persino alla schiavitù sessuale, da parte dei chierici o del fondatore. Tante volte il fondatore toglie la libertà, svuota di libertà alle suori che può arrivare di questo. Su Papa Benedetto vorrei sottolineare che è un uomo che ha avuto il coraggio di fare tante cose su questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.